In un'atmosfera incantevole, quando il sole si lascia coccolare dall'orizzonte, Alba Parietti ha condiviso un racconto sconvolgente durante il nuovo programma Zona Bianca su Rete4. Questo innovativo spettacolo di attualità e analisi, guidato dall'abile Giuseppe Brindisi e plasmato grazie all'unione creativa tra Videonews e TG4, ha riservato uno spazio profondo all'approfondimento della vicenda di Gisella Cardia. Eppure, nel corso di questa narrazione coinvolgente, è stata la stessa Alba Parietti a emergere con un ricordo che ancora la perseguita. Mentre si approfondiva la storia di Gisella Cardia, la famosa presentatrice italiana ha svelato un capitolo personale che risale a diversi anni fa, quando le domeniche serali erano dedicate a esperienze fuori dal comune. Le sue parole, pronunciate con una delicatezza che ben si addice a un tramonto, hanno gettato luce su un momento che ha scosso le fondamenta della sua anima. Lì, in un passato non così distante, si trovò ad affrontare una figura che definì maga. Questa misteriosa individua a tessette una tela di inquietudine intorno al figlio di Alba Parietti, profetizzando scenari terribili. Nel momento in cui la zona bianca si è trasformata nel palcoscenico delle sue confidenze, Alba Parietti ha descritto con sincerità disarmante come lei stessa cadde in una rete di persuasione tessuta con abilità. Nonostante le sue riserve interiori, la vulnerabilità del momento la spinse a cedere ai dettami di questa maga, consegnando denaro come pegno. «È stata una manipolazione su di me a cui sono cascata», ha ammesso l'amatissima presentatrice, rivelando quanto facile sia per la maggior parte delle persone essere attratte in queste situazioni da un senso di disperazione. Con la voce calda e autentica che le è caratteristica, ha aperto un angolo del suo passato che pochi avrebbero osato condividere, mostrando quanto il bisogno di risposte e speranza possa offuscare la lucidità. Mentre il sole si eclissava nel cielo, lasciando spazio all'oscurità avvolgente, Alba Parietti ha dimostrato ancora una volta che, anche nella sfumatura più cupa della propria storia, può emergere la forza per condividere, imparare e crescere. E così, Zona Bianca ha abbracciato l'unicità di ogni esperienza, rendendo questa domenica sera un capitolo incancellabile nella cronaca televisiva italiana. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto.